Signori, oggi abbiamo un'occasione più unica che rara. Oggi è successa una cosa che mai avrei pensato potesse succedere, ed è successa. Il Bologna ha colpito ancora. E io mi auguro vivamente che non colpisca anche il Genoa, che vedo che c'è una formazione molto molto stronza oggi. Sì, adesso mi vado a cambiare, tranquilli. Ricordiamo che il Milan oggi non fa un turnover, ma più o meno, mezzo e mezzo. Io non avrei tenuto in panchina leao, perché poi farlo entrare a partita in corso, quando magari non stai vincendo, è molto duro inserirlo. Vediamo cosa succede. Qui i ragazzi a Genova ci hanno sofferto tutti quest'anno. La Roma è particolare. E oggi, se non sfruttiamo questa occasione, non so veramente cosa fare. Comunque sia, live reaction, ragazzi, numero 107. Praticamente tre giorni dopo. Borussia Dortmund-Milan. Noi abbiamo avuto il calendario che abbiamo giocato di mercoledì e di sabato, perché è la marotta Luke, ragazzi. Poi non venitemi a dire, marotta Luke colpisce ancora. E non mi dite, eh, se fosse la marotta Luke non sarebbe stato rigore per il Bologna oggi. Rigore per il Bologna era netto, ragazzi. Era netto, ma grosso come una casa. Mi piace ancora di lì confermato, anche se l'avrei messo in campo in Champions League prima. Finalmente Florenzi al posto di Calabria, perché veramente quell'uomo lì mi sta facendo venire gli attacchi di panico. E ragazzi, Genoa-Milan, la vedo sempre la partita con un mood molto accogliente. Questa è esattamente la quarta reaction a una partita col Genoa. E per ora sono state sempre vittorie. 2-1 nella stagione 2021. 3-0 con la doppita di Messias e il gol di Ibrahimovic. Ce l'hanno dello scudetto. E il 2-0 a ritorno con gol di Leao e Selemekers. Vediamo di giocare calmi, tranquilli, senza pressione. Fate finta che l'Inter abbia vinto oggi. Tranquillo, fate finta che abbia vinto 8-0. Anzi, magari fate anche finta che l'Inter deve ancora giocare, che forse è meglio. Però io ripeto che Leao l'avrei fatto giocare già. Iniziate, ragazzi. Già dopo 40 secondi posso constatare che c'ha parecchia personalità questo Genoa. E li ho visti giocare l'anno scorso allo stadio a Roma. Per vedere Roma a Genoa di Coppa Italia. 1-0 gol di Dybala. A Roma ha fatti con un botto. Genoa non ebbe grandi occasioni. Però è una squadra con giocatori più scarsi e con tantissima personalità. Suquese dentro per Okafor, Okafor! La parata, che cazzo è portare la manna, no? No, chi è? Martínez. Ha messo una palla? Porca puttana! Dobbiamo fare di più, però per ora non ci possiamo lamentare. A parte che abbiamo altri 87 minuti per lamentarsi, quindi tranquilli. Come sta a giocare su Milan? Non è un campo facile. Voi vanno distrutto in questo campo? Roma come Lazio stanno a fare certe partite di merda proprio. Jovic veramente non mi sa di nulla. Va di zero. Dai! Ma che cazzo di cross è? Florenzi. Vabbè, a me ne abbiamo tirato in porta, dai. Ma che tiro di merda! Se all'oratorio tiro così, prete mi butta fuori. Bestimmia, prete direttamente pure. Bestimmia lui, esatto. Oh, giallo a chi? Che è, simulazione gli hanno dato? Ah, qui? Giallo a Ternandez. Vabbè, giallo a Ternandez ormai è un must. No, salta la Juventus Ternandez, è un coglione. Ti potevi far municco la Lazio, no? Cinque gialli ha preso tre per proteste. Florenzi, fiosca, un altro giallo. Però si sente troppo che manca le au. Qual è il problema? Parciato! Ma no! Vasquez! Mamma, che me... Dove fuori? Sì, però, porca madonna. Ma sono dei cavalli questi! Eh, non ci ha visto. Fai cacare il cazzo! It's a kind of magic! 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 Ma come cazzo è saltato? Ma come cazzo è saltato? Ternandez! Ma che cazzo! Oh, in azzumai level! Ma che era? Sì, è fuori di 50 metri. Eh, vuoi chi la batte? La batte secondo me, Adli. Questo campionato. Riccione per il Milan. Adli schema valla fuori. Che merda! Ma no, ma ragazzi! Ma no, ma ragazzi! Ma calcio in modo politico. Florenzi, cazzo su. De piattone puro la presa. Che poi era fermo! Fermo! Vabbè che c'era l'arbitro dopo. Vabbè, ma manco l'ha visto l'arbitro. Comunque Magliano sta a fare una stagione che non è fantastica. Palla alta e palla loro. Poi tipo spero di vincere tipo una 0 al novantesimo. Chiaro. Guarda che culo! E fa rosicare mezza Italia, però quelli sono dettagli. Ma t- MA ZACI! COZZO! Che due coglioni che mi state a far venire. Una la giocate bene, una la giocate male. Una la giocate bene, una la giocate male. Che palle! Palla... Lenta però, Cafor, nulla. Madonna! Cazzo! Iovic! Madonna ragazzi! Che io pare lo facciate apposta. Cioè, ma il problema è che non si muove Iovic. Non fa un cazzo. Un'altra palla alta finita. Tre piedi del Genoa, no? Perché è giusto così, è giusto così, è giusto... È giusto così! Un'altra palla alta finita tra le mani del Genoa. Dovete andare a giocare a calcio su spiaggia. Ecco dove dovete andare. Lì si gioca palla alta. Oh, 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 madonna, 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 madonna! Non agganciano una palla! Cioè, ma, 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 ma Ciuquezi sotto porta vale Pellegri! Eh, no, la macca, ragazzi! Fine primo tempo, ma veramente, ma uno schifo, il solito, il solito! Tre tempi senza fare gol, non vi dico altro! Oh, lo mettiamo sto Pulisic, allora... Oh, Leao, sì! Dimmi che togli Jovic e Ciuquezi, ti prego! Fuori Okafor! E Ciuquezi! Lascia in campo Jovic! Nooo! Ma nooo, ma no, raga, ma nooo! Battono loro subito a cannone, eh! Ternandez, sei partite, cinque cartellini gialli, oh! Oggi doveva riposare Ternandez, oggi! Invece, fatto riposar Calabria! Apsvasket c'è un fallone qua! Giallo per Musa, terzo cartellino giallo per il Milan! Vabbè, Giroud lo metterà, speriamo di no, speriamo di no! Ma ora, come può venire in mente a Florenzi di mettere la palla alta per Reinders, che è un metro e settantadue! Forse! Madonna, madonna che palla del cazzo! Ancora le palle alte! Ancora le palle alte! Non ne posso più, ti vede ste palle alte di continuo! Cioè, ma bisogna cambiare allenatore per vedere ste palle alte, perché sennò non si spiega, ragazzi! Jovic e Florenzi che, ovviamente, perde palla, no? Perché perde palla! Perché perdiamo palla sempre! Cioè, non è che ce la rubano loro, la perdiamo noi! Cioè, si sta ribaltando la situazione! Reinders, dai! Eh, che calcia! E poi Florenzi di controbalzo! E' il quarto tiro che fa Florenzi tutti da fuori aria, le ha fatti! Ma dai, ma dai! Cioè, sta giocando male anche Reinders! Eeeeee... Fallo! Giallo anche per Adli! E io, invece, giocherò a 90 minuti, come minimo! Entra a giro! Cioè, mette Calabria quando poteva farlo partito, trovare tanto scarso per scarso! Ternandez così salta la Juventus! Florenzi, dai! Dai! Palla verso Leao! Si è tirato in porta! Si è tirato in porta, finalmente! Giro e... Oh, donna! Giro e Jovic insieme! No! 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 Non ne approfittiamo mai! T'hai regalato la palla al portiere! Ma neanche così! Buona per Jovic! Buona! Buona! Pulisic! C'è Rafa! Rafa! Dai! 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 Ma cazzo! Cazzo! Fai qualcosa! Ma fai qualcosa! Non fa un cazzo! Non fa! Non fa un cazzo! Sto coglione! T'hanno regalato la palla alle tre quarti loro un'altra volta! E di nuovo sbatti addosso ai difensori! Io non c'ho parole! Ragusin! 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 Ma Ignan in angolo! Un tiro del cazzo! Un tiro del cazzo! Tra un po' finisce in porta! Ragusin! Oh! Ma cosa cazzo esce? Ma Ignan! Calabiojovic! Eh! Niente! Nulla! 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 Niente da fare! Nulla! Niente! Zero! Forse anche meno di zero! Siamo arrivati alla semi rovesciata di Jovic! La prossima che facciamo in Azuma Eleven per far gol! Leao! Balla dentro! Jovic! Li Pulisic! Niente da fare! Non si fa gol ragazzi! Leao! La scarichi quella palla! Non la scarica! Pure fallo di Leao! Pensate un po'! Se tu avessi scaricato la palla! Lurido coglione! Non facili fallo! Niente! Manco più a passarla siamo arrivati! Adesso l'ha pure gufata! Leao! La mette nel mezzo dove non c'è giustamente nessuno! C'è Calabria che tira! In curva! Perché il Milan è tre mesi che gioca così! Non ve ne siete resi conto! Un altro tiro da fuori aria! È imbarazzante! Calabria per Pulisic! Un'altra palla sul fondo! Mi avete rotto il cazzo! Ma cosa vuoi vincere questa partita? Che hai fatto due tiri in porta in 90 minuti! Cosa vuoi... Cosa vuoi vincere? Due tiri in porta! Uno ha telefonato un altro di rimbalzino! Ma che cosa vuoi vincere? 30 secondi per battere un rinvio e non c'ho parole! Bravo ammoniscilo quella merda e fa recuperare tutto! Teo Leao 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 Leao! È scivolato il difensore Leao! Verso... È verso un'altra palla alta che ovviamente chi la raccoglie è Q2! Perché è giusto così! Giusto così! Un altro cross! C'è il gol! Pulisic! Ciocciate le palle! E andiamo! E andiamo! Cassis di Musa! Stop e giro! E vaffanculo! Arretrate ancora di più! Capitano America! Vaffanculo! E andiamo! Posizione super regolare! Non è che l'ha stoppata di mano? No! Vai! Ce lo annullano! Scommetto che ce lo annullano! A me non mi pare braccio ma visto il culo che ci abbiamo... A me pare petto ragazzi! Il gol è buono! Suka! 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 La vedete la marotta League? Come vi punisce! Come ci vendichiamo della marotta League? Fateci giocare a due giornate di distanza una dall'altra! Fateci giocare! Vedete come la prendete nel culo! 7 di recupero! Adesso si tribola eh! Guarda Martinez adesso! Come rinvia subito quella testa di minchia! Rendrup alta! Dragosin ciao! Fuori! Ha fatto uscire Jovic! 93 minuti per farlo uscire eh! E ovviamente la partita chi te l'ha risolta? Un titolare! Ufff! Ufff! Donna davvero Mignan adesso deve andare al bar, prendere il caffè, farsi una bella cagata, fumarsi in segreto e tornare eh! Di Giroud che si allaccia con Dragosin! Buscas! Fasquez! Davanti in verticale per la corsa di Ekuban! Rimpallo! Su Mignan! Che c'è bene di testa per Gudmundson ancora a Mignan! Gudmundson! Un grande coraggio! Non c'è il portiere! Protesta a Marassi! Intanto il Genoa gioca! Si è fatto male Mignan stranamente! Madonna ragazzi! Ma... Ma che è l'asilo questo? Ma io non capisco perché uno abbia fatto entrare uno come Bartesaghi che in una partita così in equilibrio non la può giocare! Secondo! Una palla in profondità per Ekuban! Raddoppiato! L'hanno perso! Ma... Ma... Ma dove vi hanno insegnato a far ste merdate qui ragazzi? Abbiamo finito i cambi? No! No! L'espulsione di Mignan! No! No! Ci tocca a mette... C'è anche la possibilità del fallo grave di gioco perché Mignan è entrato con il ginocchio... No raga! C'è per una sbrodolata difensiva così! Eh si! Ancora prima di prendere il pallone! On field review aperta! Il fallo è netto però c'è la sbrodolata difensiva è assurda! On field review! Vicinini! Cartellino rosso per Mignan! Ciao! Cartellino rosso per Mignan e punizione per il Genoa! Rosso per Mignan! Milan in 10 uomini! Abbiamo finito i cambi! Mignan e Ternandez saltano a Juventus! Chi ci va in porta? Comunque ora il rosso a Mignan ci sta eh! Però ragazzi c'è una sbrodolata difensiva così è grave! Va Giroud in porta! Quanto vorrei avere Lukaku adesso! C'è! Capito Pioli! Ha emesso Bartesaghi! Togliendo Jovic che non ha fatto un cazzo tutta la partita! Bartesaghi che ha fatto la sbrodolata difensiva che ha portato al rosso di Mignan! C'è dietro ogni cosa c'è Pioli! Mo' fa gol questo! Ma fa gol pacifico ragazzi! Giallo anche a Tomori! Fa gol ragazzi! Punizione al limite che vuoi che faccia! Va Gudmundson! Dai! Vediamo sto gol! Grazie! Traversa! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Non ci voglio credere! Sale anche il portiere! Vediamo gol dal portiere adesso! Rendrup dentro! Musa! Porta vuota! C'è Leao! C'è un giallo! Per un fallo su Musa! Rosso anche per Martine! Vedi a perdere tempo l'urido coglione! Vedi a perdere tempo! A perdere tempo l'urido coglione! Quanto godo! Quanto godo entrambi i portieri espulsi! Ma che sta succedendo? Loro però hanno tenuto il cambio! Muscas! Giru! La parata di Giru! La parata di Giru! Quello schiaffo! Vasquez! Verso Torsby! Giru! Finisce qui! Ha vinto il Milan! A casa i gufi! A casa tutti! Giru portiere! Vabbè due settimane da prima in classifica! Aaaaaaaaahhhh! Ha 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 ha. Eh? Eh... e torniamo questa è la festa